Ciao Nicolo, buon pomeriggio. Arriva l'Inter, che partita servirà per battere l'attuale capolista? Sicuramente servirà una partita molto attenta, una partita molto importante per noi, servirà molta attenzione, voglia di fare e sicuramente è una partita che in questo momento ci può servire per riprenderci emotivamente, dal momento magari un po' così così e quindi sarà una grande partita. Hai debuttato poi in Serie A proprio contro l'Inter quattro anni fa, ora sei vicino alle cento presenze. La strada che hai fatto finora potrebbe regalarti anche una chance in vista del prossimo europeo? Ma questo lo spero sempre, perché la Nazionale è il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio, soprattutto qua in Italia. Quindi io la Nazionale la guardo sempre e spero una convocazione, so che devo fare ancora meglio e quindi sicuramente perché no.